Cosa è la mania bipolare? La mania bipolare è il sintomo principale del disturbo bipolare dell'umore, noto anche come depressione maniacale. Durante un episodio maniacale, le persone hanno tipicamente stati d'animo elevati o irritabili. Tendono anche a subire cambiamenti comportamentali, come dormire meno del solito o agire impulsivamente. La mania è spesso seguita da un attacco di depressione. I sintomi della mania bipolare variano da persona a persona. I sintomi tipici possono includere un umore eccessivamente felice, estroverso o una sensazione alta. Alcune persone con disturbo bipolare riferiscono di sentirsi nervosi e irritabili. I cambiamenti nel comportamento sono comuni, come diventare facilmente distratti, assumere nuovi progetti ambiziosi, impegnarsi in attività rischiose, parlare troppo o troppo velocemente o mescolare pensieri. Le persone che provano mania possono sentirsi stranamente irrequieti e non essere in grado di dormire. Gli episodi maniacali possono essere problematici per la persona con disturbo bipolare, così come per la famiglia e gli amici. La mania bipolare può minacciare le relazioni a causa dell'elevata irritabilità della persona e dell'umore accitato. Alcune persone litigano, si mettono in pericolo o infrangono la legge durante un episodio maniacale. Per una persona con disturbo bipolare, un episodio maniacale è spesso seguito da un episodio depressivo. Gli alti della mania bipolare sono in genere sostituiti da sentimenti tristi e vuoti. L'irritabilità può rimanere, ma la persona può sentirsi pigra e incapace di concentrarsi. I cambiamenti di umore sono spesso così gravi che alcune persone con disturbo bipolare possono prendere in considerazione o tentare il suicidio. Il disturbo bipolare non trattato tende a peggiorare nel tempo. Molti problemi sono associati alla mania bipolare, tra cui abuso di sostanze, problemi di relazione e scarso rendimento al lavoro o a scuola. Disturbi d'ansia, disturbi ossessivo compulsivi e altri disturbi dell'umore spesso esistono in concomitanza con il disturbo bipolare. Un elevato rischio di problemi di salute tra cui emicranie, malattie cardiache, condizioni della tiroide o diabete legato al disturbo bipolare. Non esiste una cura per la depressione maniacale, tuttavia, affrontare il disturbo bipolare è possibile attraverso il trattamento. Il trattamento bipolare coinvolge tipicamente i farmaci. Stabilizzatori dell'umore, antipsicotici e antidepressivi sono comunemente prescritti per il trattamento della depressione maniacale. Questi farmaci possono causare effetti collaterali potenzialmente gravi, quindi le persone con disturbo bipolare dovrebbero parlare con i loro medici di opzioni di farmaci e di eventuali rischi potenziali. Un altro trattamento per il disturbo bipolare è la terapia. Le sessioni di counseling con uno psicologo abilitato o la partecipazione a riunioni di gruppo di sostegno bipolare possono a volte aiutare a cambiare i modelli di pensiero o i comportamenti associati alla mania bipolare. Anche la famiglia e gli amici possono beneficiare della terapia. In molti casi, la terapia è più efficace se associata a un trattamento bipolare.